Ora sì. Ora sì. Ora sì. Bene. Allora. Per la rubrica il suono della settimana. Esatto, io mi riaggancerei a uno che abbiamo già visto oggi perché non... perché spacca e spacca anche sto suono qui, che è Woodkid. Woodkid, prima del videone della Madosca che abbiamo visto prima, ha fatto un altro videone della Madosca che si chiama Goliath. Questo però fa parte di quella... ancora diciamo di quel periodo in cui le sue canzoni secondo me le puoi ascoltare tranquillamente anche senza il video. Il video è una figata, io lo farei vedere, però vorrei che ci concentrassimo come suono della settimana su un suono che senti... è molto particolare, lo senti all'inizio della canzone, quindi secondo me capisci subito di cosa sto parlando. Ma che suono assurdo è! È vero. È il suono della settimana. Sto cercando di capire che cos'è, come l'ha fatto. Allora, io ho fatto un po' di ricerche. Non ho trovato nulla di ufficiale, di... come dire... che svela il mistero. Però ho trovato un sacco di discussioni, di ricerche, di gente che era interessata e la cosa che ho trovato che mi ha convinto di più mi ha anche un po' deluso, tra virgolette. Nel senso, se volete vi svelo l'arcano... Ma dici sul suono? Su quel suono lì, su quel... Però è un po' come quando scopri il trucco del mago e dici... Ah, vabbè... Non so, se volete io ve lo lascio lì e non ve lo tocco, sennò vi spiego. Una teoria, tra l'altro, perché ripeto, non c'è niente di ufficiale. Ma dai, se è una teoria, diccelo. Allora, la teoria che per me ha più senso, anche per degli esempi che aveva fatto il tizio che avevo visto, è semplicemente un tarataratata mega effettato, tra compressione, effetti, filtri, eccetera, è semplicemente un tapatapatapà. Beh, in realtà a me non delude una cosa del genere. Cioè, è effettato da Dio. Sì, è effettato benissimo, però appunto non è che abbia usato strumenti strani o registrato robe strane, semplicemente... No, ok, però ha usato effetti strani. Hai usato degli effetti assurdi. Ha valore comunque. No, no, ma infatti non voglio assolutamente sminuire... Cioè, chi mi conosce sa che apprezzo soprattutto i rumori strani. Se non c'è un'artigianalità nella registrazione, proprio nell'emissione del suono, c'è un'artigianalità nel modo in cui è stato effettato. Esatto. Quindi comunque è tanto di cappello. Comunque per inaugurare la rubrica suono-rumore della settimana mi sembrava un ottimo inizio questo, perché comunque è un suono stranissimo che però contestualizzato ci sta da Dio. Figo. Ottima scelta. Ottima selezione.